L'autorità portuale ha destinato investimenti per la infrastrutturazione delle aree ZES della Calabria. Tra le prime zone economiche speciali, la ZES Calabria, guidata dal commissario governativo Rosanna Nisticò, ha un'estensione di superficie pari ad oltre 2.400 ettari, suddivisa tra aree retroportuali ed aereoportuali. Intorno a questi territori, ruolo attrattivo di sviluppo, è ricoperto dal porto di Gioia Tauro, che assume funzione trainante nel sostegno all'economia dell'intera regione. A tale proposito, al fine di creare le condizioni infrastrutturali favorevoli all'insediamento di nuove imprese, oltre a quelle determinate dalla normativa di settore e relativa alla istituzione della ZES, l'autorità portuale ha inserito nel proprio piano operativo triennale una serie di opere pubbliche che puntano a raggiungere questo obiettivo e ad incentivare possibili insediamenti aziendali. L'ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, ha programmato la realizzazione di opere di urbanizzazione dell'area del retroporto per un valore economico di 10 milioni di euro, per il quale ha fatto richiesta di inserimento nel piano nazionale di rilancio e resilienza al fine di preparare le condizioni di viabilità, illuminazione e canalizzazione delle acque necessarie a stimolare l'investimento di imprese nazionali ed internazionali in loco. Nel contempo è stata pianificata la creazione della cittadella delle ispezioni per un valore economico complessivo di 3 milioni e mezzo di euro. Si tratta di un'unica area di controllo integrato delle merci all'interno della quale sarà realizzato anche il punto di ispezione frontaliera, valore di 2 milioni di euro, al fine di attivare una maggiore semplificazione delle attività di controllo delle merci che toccano sia gli aspetti sanitari ma anche quelli relative all'antifrode, per offrire così un ulteriore servizio di sostegno alle attività di trasporto delle aziende che insistono nel retroporto.